Quando sarete pronti ad emergere, emergerete. Tutto il potere di cui avete bisogno è nelle vostre mani. Adesso guardatevi intorno. Il nostro sistema finanziario è stato derubato da una generazione di ladri. Mentre voi lavorate sempre più turamente per avere sempre meno, il gioco viene manovrato contro di voi. Ci stanno rendendo schiavi virtuali. Predatori al cuore del nostro sistema finanziario, che impongono i prezzi delle nostre più preziose risorse. Cibo, acqua, energia, oro. Anche la stessa valuta, il denaro, è stato manipolato da criminali di alti livelli in una gigantesca, massiva cospirazione. Loro stanno rapinando miliardi di persone, di triliardi di dollari all'anno, amici. Non c'è bisogno di misure di austerità. Non c'è bisogno della sofferenza finanziaria. Non c'è bisogno della povertà. Non esiste alcuna scarsità. Noi siamo semplicemente le vittime di una rapina di proporzioni inimmaginabili. Ci hanno nutrito con una bucia così vasta che ha schiacciato tutta l'umanità. La verità è che c'è molto di più da dire. 60 anni fa la produzione industriale aumentava così rapidamente che si prevedeva che oggi le famiglie avrebbero vissuto agiatamente anche con lo stipendio di una sola persona, che avrebbe lavorato solo 10 ore a settimana. E ci saremmo chiesti cosa farne del tempo libero. Cosa ne è stato di quel sogno? In quel periodo ci voleva una settimana di lavoro a tempo pieno per fare ciò che oggi può essere fatto in 10 ore. Abbiamo tecnologie mille volte più potenti. Ci possiamo connettere in modi che non avremmo mai immaginato. Adesso noi siamo 100 volte più ricchi di quanto avremmo potuto essere negli anni 50. Noi siamo gli eredi di un grande fondo di prosperità. 70 miliardi di miliardi solo negli Stati Uniti. Più di 200 mila dollari per ogni uomo, donna, bambino. L'unico motivo per cui non ne usufruiamo è perché questa ricchezza è spazzata via da una classe criminale corrotta. Loro creano corporazioni gigantesche, aumentando i prezzi, abbassando i salari e rubando i frutti della nostra produzione. Mentre un tempo una famiglia prosperava con un solo stipendio, adesso entrambi i genitori sono costretti a lavorare donando il loro tempo alla produttività, lottando per sbarcare il lunario. Loro controllo dei media, usando i problemi sociali per dividerci e mettere fratello contro fratello. E ci ritroviamo a combattere gli uni contro gli altri per motivi che le lobby decidono. Ci terrorizzano con i fallimenti bancari, ma qualunque somma perdano siamo noi a doverla recuperare dai nostri redditi e succede ogni singolo giorno. Non vendetevi a questi criminali che abusano di voi, vi schiavizzano, rubano la vostra vita, che vi dicono cosa fare, cosa pensare, cosa sentire. Sostituiamo il sistema corrotto con un sistema migliore, ma migliore per tutti. Siamo noi a creare la ricchezza, non loro. Ed è arrivato il momento di riprendercela. Rivendichiamo i frutti della nostra produttività, condividiamo tutta la nostra prosperità. Possiamo fare questo adesso. Noi siamo i creatori e quando ci uniamo insieme abbiamo il potere di creare qualsiasi futuro noi vogliamo. Grazie. Grazie.